Qua niente! Entra, te entra! Eh, eh, allargati dopo! Eh, 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 eh! Guarda che ci sta girando! Sì, ma non c'è! Lascio! Ma scendi diretto di là! Non vedi tanto po'. Questa va a fare ora... faccio tutto in prima tutto in prima spampi tutto in prima e seconda solo quello lì ma mi sembravi lungo è come se rattella quasi quasi mi conveniva fare in prima anche quello è perché è meno che rattella per quello e dopo ti ti porta fuori perché questo è tutta roba da prima sì come vedete loro ma anche quello lì io ho detto anche il sasso lì ma tu lo prendi sotto e io aspetto a posta vabbè fanno anche il secondo ma sembra che rattella come se hai la terza dentro questo devi stare attento quando scendi perché c'è il buchetto dietro ti dà la sensazione ti butta di là va al ciclista va al ciclista c'è le scarpe bagnate però è dove è andato? dai Lele Lele facci sognare facci sognare lele le spalle dove erano dall'altra parte del manubrio perché l'ho lasciato se no se no le stava lì sai com'è ancora? adesso lo facciamo al contrario però dopo saliamo di qua invece che di là buono che c'è il buchetto siamo di qui di qua non è di qua via via sai perchè? buco di reni sai perchè? perchè ti ho detto che c'è il buco dopo che a lui gli dici una cosa che non gli piace ma la sbaglia non c'è un cacchio da fare gli ho detto guarda che dopo stai attento che c'è il buco vedi che non l'ha fatto e lui mi frega dandomi i calcioni io lo frego psicologia dai 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 la sua è più pronta comunque figaro quando gli dà non è l'incattività di ventia che moto ragazzi ha detto che la tua è più pronta della sua la sua non si sveglia ma molto la tua è più comprata che dormi a mezzogiorno si sveglia la mia più sveglia da sua la sua non si è mai svegliata in sette anni poi cambia 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 si come dico cambia anche la cosa è in prima non va bene e di su se no